Allora è sempre molto impegnativo portare dei personaggi reali sul grande schermo, in questo caso penso più di tanti altri. Quindi volevo sapere come hai lavorato con Ilaria Cucchi, che tu interpreti, per trovare questa verità, che poi era quello che tutti cercavate. Ma io ho conosciuto, ho incontrato Ilaria precedentemente a questo film. Noi ci siamo conosciute durante un ricordo per Stefano Cucchi, dove ero andata a leggere un passo di Antigone, perché risuonava tanto nella sua storia. E naturalmente l'incontro è stato molto emozionante, perché per me poi, come cittadina, l'esempio di Ilaria Cucchi, la sua esposizione pubblica, che poi ho sempre ritenuto, come dire, un'esposizione generosa, un'esposizione di se stessa per tutti noi. Insomma, in qualche modo le devo molto. Quindi nel momento in cui mi sono trovata dentro al film, raccontare lei chiaramente poneva questo problema qua. Come restituire a questa donna non solo la giustizia, perché questo film è semplicemente il racconto di quello che è successo. Quindi semplicemente una luce sulla vicenda Cucchi. Però come restituirle il favore. E quindi il modo in cui ho cercato di interpretare Ilaria era assolutamente un modo, come dire, di intenzioni, non di mimesi. Non mi sono sentita neanche di chiederle troppo. Ho pensato semplicemente che cosa vuol dire avere un fratello, un fratello che può far stare in pena e amarlo molto. E quindi siamo rimasti su quello, insomma, la semplicità e il rispetto. Il film non fa sconti a nessuno, neanche a Stefano e forse possiamo dire neanche a Ilaria, nel senso che è un personaggio complesso. Su questo tu come hai lavorato? Beh, questo è proprio il senso del reale, no? Perché poi fare un'icona, un santino di quello che invece è un ragazzo, no? Semplicemente un ragazzo che a un certo punto della sua vita fa un errore o fa più errori. Ma non per questo poi, no? Chiaramente li deve pagare, scontare, fino alla fine in quel modo. Restituire molta umanità alla figura di Stefano, ma anche alla figura della sua famiglia. Insomma, quindi Ilaria è anche una sorella molto severa da qualche punto di vista, però in questa severità, in questo sguardo che ha sul fratello c'è tutto l'amore, no? Quella che sarà poi l'Ilaria pubblica e quindi anche quello che per noi può essere appunto un'immagine molto riconoscibile arriverà dopo. Nel film c'è solo una sequenza piccola piccola con Alessandro Borghi, però quanto, anche se a distanza, è stata importante la vostra amicizia, il fatto di aver lavorato insieme su film completamente diversi, come era stata fortunata, quanto anche questi, diciamo, anche se appunto lui era per lo più nelle vostre scene, non eravate insieme, però è stato importante. Esatto, il film racconta soprattutto la separazione di Stefano dalla sua famiglia. E questa attesa mi colpì molto, leggere il libro di Ilaria, quando Ilaria dice, volevo dirti che non eri solo, perché sostanzialmente questo avviene, no? Nessuno è riuscito a dire all'altro, ho bisogno di te o allo stesso tempo noi siamo qui. Alessandro mi toccava per un motivo duplice, perché lui si è immerso, no? In maniera impressionante, straordinaria, dentro a Stefano Cucchi. Ed era impressionante anche vederlo quando l'ho visto in quel momento, in quella scena. Però anche così il legame personale, il bene, no? Che gli voglio. Quindi vederlo all'inizio, con quella dolcezza, e vederlo alla fine, ormai finito. Aveva un senso. Sono due le sequenze, in effetti. Sì, aveva un senso. In effetti sì. Senti, il film arriva contemporaneamente al cinema e su Netflix. Forse, vorrei sapere la tua opinione, questo film più di altri ha bisogno di questo? Assolutamente, penso che non dobbiamo avere paura della diffusione. L'importante è questo, l'importante è arrivare ovunque, l'importante è garantire che ci sia la possibilità di vedere questo film in sala, perché sono poi una grande amante della sala cinematografica. Per la mia piccola esperienza, abito di fronte a un cinema ogni volta che mi affaccio, io vedo che quelli che vanno al cinema ci vanno comunque, non se lo guardano su Netflix, ma allo stesso tempo forse dei ragazzi che, visti i tempi, non si muoverebbero per andare al cinema, l'importanza che questo film possa entrare, non soltanto a casa loro, ma probabilmente anche dentro di loro, ecco, mi sembra da tenere da conto.